Grazie a tutti. Mai. Sapevo che ce l'avremmo fatta e non facevo che ripeterlo a chiunque me lo chiedesse. In questo ambiente devi mostrarti sicuro. Se vuoi la torta con la ciliegina sopra e tutte le guarnizioni, devi avere abbastanza fiducia in te stesso per riuscire a prendertela. Per andare avanti c'è sempre bisogno di sentirsi sfidati. Perciò, quando la gente ci chiede cosa farete adesso che siete arrivati al massimo, io rispondo, balle! Non siamo ancora arrivati al massimo. Detesto ammettere a me stesso che siamo arrivati al massimo, capisci? Perché a quel punto, dopo, potremmo solo peggiorare. Quando arrivi in cima, non ti resta altro da fare che scendere. E quando dai la scalata al successo, continui a puntare alla cima, perché non vuoi tornare giù. Ed è dura. Mi ricordo che ci sono stati tempi e momenti agli inizi in cui ovviamente volevo essere notato e di conseguenza mi vestivo in modo da esserlo. Indossavo vestiti di Zandra Rhodes e mi laccavo le unghie di nero, mi truccavo gli occhi e portavo capelli lunghi. Indossavo camicette da donna e poi entravi in una stanza e chiudevo la porta di colpo. Questo è un modo efficace di entrare in scena. E lo puoi fare. È una di quelle cose che puoi fare se sei in una certa posizione. E adesso, dopo averne fatte tante, voglio la mia vita privata. Spesso mi domandavo cosa pensasse mia madre quando vedeva quelle immagini di me in scena, truccato e con tutti quegli addobbi regali. Ma, come d'altronde mio padre, non mi fa mai domande. La gente prova cose diverse e c'è sempre stata la tendenza ad usare effetti teatrali ed immagine. Tutti i grandi artisti li hanno usati ad un certo punto nei loro spettacoli. Jimi Hendrix, gli Stones. È una cosa che ci vuole. Personalmente mi piace perché odio stare in scena a cantare e basta. Mi piace muovermi e ogni canzone ha una sua aggressività che mi piace mostrare. Detesto socializzare con i personaggi del mondo dello spettacolo. Potrei fare il Rod Stewart della situazione ed entrare in quel giro, ma voglio tenermi fuori da tutte quelle cose. Non sono una di quelle persone a cui piace andare alle feste di presentazione dei dischi alla stampa, perché più di ogni altra cosa a mostarmene per conto mio. Agli inizi mi divertiva essere riconosciuto, ma adesso no. Quando non sono con i Queen voglio essere una persona qualunque. Ci sono mattine in cui mi sveglio e penso «Mio Dio, oggi non vorrei essere Freddy Mercury». Sono sotto i riflettori, che mi piaccia o no, ma non voglio che tutto quello che faccio venga reso pubblico. Sono della Vergine. Sono come Greta Garbo. Voglio essere lasciato in pace. Sono un po' un'eremita, ma non è un atteggiamento studiato ad arte. Mi piace rimanere da solo e chiudermi in casa con i miei amici, ma detesterei stare su un'isola deserta. Lo odierei. Mi piace avere gente intorno, ma non mi piace che succeda nel mio spazio. Faccio venire da me tutti i miei amici, e forse è una cosa molto egoista, ma per me è un meraviglioso regalo. Ho bisogno di essere circondato di gente, ma anche di oggetti, anche solo da opere d'arte, e quindi ne colleziono molte, e la mia casa è piena di bellissime opere d'arte di antiquariato giapponesi. E questo è anche il motivo per il quale voglio tanti pesci e tanti gatti. Immagino sia un atteggiamento da timido, in qualche modo. Posso decidere di correre molti rischi nel mondo della musica, perché questo è il mondo in cui vivo, e nel quale non mi pongo limiti. Ma non correrei dei rischi per quanto riguarda la mia vita sociale. Devo essere completamente a mio agio, in una situazione pubblica, prima di inserirmi. E questo può farmi sembrare una persona molto noiosa. Avere talento significa anche fare in modo che la tua musica arrivi alla gente. Non puoi limitarti a essere un meraviglioso musicista e uno straordinario compositore. Ce n'è in giro un sacco. Impara a farti avanti. Cerca di esserci al momento giusto e impara a trattare i tuoi affari fin da subito. Oggi sono queste le regole nel mondo del rock and roll. Devi comprendere istintivamente tutto ciò che può servire a portare la tua musica al successo. Più in alto sali e più devi essere smaliziato se vuoi evitare il pericolo di una caduta. Non che io volessi essere duro e scafato, ma sono le circostanze che ti portano a diventarlo. Una volta raggiunto il successo, entrano in scena i cattivi e tu dovrai essere forte abbastanza da cercare di individuarli ed eliminarli. È veramente un test di sopravvivenza. Entrano in scena le sanguisughe e non ti lasceranno neanche una goccia di sangue se concederai loro la minima opportunità. Devi controllare tutti quelli che lavorano per te e se pensi che ti stiano fregandoli devi scartare senza esitazione. È come un giro sull'autoscontro. È l'autoscontro del rock and roll. Devi essere sicuro che chi ti vuole male non ti colpisca troppe volte. Comunque, anche se hai successo, metti in conto di rimanere scottato una o due volte. È una regola classica, diciamo così. Chiamiamola esperienza. La mia responsabilità nei confronti del pubblico è quella di allestire un bello spettacolo e assicurarmi che i Queen offrano un buon intrattenimento di una certa consistenza. Tutto qui. Devo fare in modo di conquistare gli spettatori e farli sentire bene, altrimenti non ho fatto il mio dovere. Mi piace che il pubblico esca dai nostri show con l'impressione di essersi divertito e di aver goduto di un bello spettacolo. Lo so che è un luogo comune dire «Oh, li tieni in pugno, puoi fare tutto quello che vuoi!» Ma so che più in fretta lo faccio, meglio è, perché così sento di avere la situazione sotto controllo. A quel punto so che andrà tutto bene. Sono attirato dall'idea di coreografie più sfarzose in scena. Mi piace quel modo di concepire uno spettacolo e mi piace tutta l'idea del cabaret. Adoro la Isa Minelli. Penso che sia fantastica. Ma in un modo o nell'altro devo combinare tutto questo con il gruppo, non usarlo per staccarmene. Il difficile sta proprio qui. Siamo un pochino appariscenti, ma penso anche sofisticati. Mi sento incredibilmente forte sul palco e sono completamente immerso nella musica. È una cosa che incute soggezione e lascia tramortiti essere lì in scena con tutta quella gente che pende dalle tue labbra. Ma non ho mai pensato neanche per un attimo che potrei usare quel potere per fare politica. Non sono il Messia o un essere sovrumano. Non voglio predicare alle folle. Mai e poi mai. Non voglio impantanarmi a dare lezioni alla gente. In mani meno sensibili, quel potere potrebbe essere pericoloso. Potrei causare disordini se lo volessi. Ti ballinano in mente certi pensieri. Ho tutto questo potere, il potere di distruggere. Senti l'adrenalina, ti pare di essere il demonio ed è una sensazione meravigliosa, assolutamente meravigliosa. Ma io so, dentro di me, che non potrei mai usare questo potere per fini sbagliati. Sono troppo splendido per fare una cosa del genere, tesori miei. Ero molto insicuro da bambino, probabilmente perché ero un po' troppo protetto. Mio zio aveva una villa a Dar es Salaam, a pochi metri dal mare, e la mattina venivo svegliato dalla cameriera. Uscivo con in mano un succo d'arancia ed ero direttamente in spiaggia. In un certo senso sono stato molto fortunato, fin da piccolo. Mi piace moltissimo essere accudito. Sono cresciuto così. Ero un bambino precoce e i miei genitori pensarono che il collegio mi avrebbe fatto bene. Così a circa sette anni fui mandato per un periodo in un collegio in India. Fu uno sconvolgimento che credo ha dato i suoi frutti. Una cosa che ti insegna il collegio è come badare a te stesso. E l'ho fatto dall'inizio. Mi ha insegnato a essere indipendente e a non fare affidamento su nessuno. Tutte le cose che dicono dai collegi sono più o meno vere. Il bullismo e tutto il resto. Ero poco portato per il cricket e per la corsa di resistenza. Ero completamente incapace in entrambi. Ma me la cavavo bene nella corsa veloce, ero bravo a hockey e come pugile ero davvero eccellente. Che ci crediate o no. ci sono stati tempi in cui ero giovane e ingenuo. Mi ero preso una cotta per un insegnante. E avrei fatto di tutto per lui. È una cosa che succede ai ragazzi nel periodo della scuola. E ho avuto la mia dose di scherzi da parte dei compagni. Ma non è una storia sulla quale intendo dire di più. A scuola prendevo lezioni di pianoforte e mi piaceva molto. All'inizio ho frequentato regolarmente le lezioni perché sapevo che mia mamma ci teneva. Ma con il tempo suonare ha iniziato a piacermi moltissimo. Fondamentalmente suono orecchio e non sono per niente in grado di leggere la musica a vista. Non ne ho bisogno. Lo lascio fare ad altri. Non è che sono Mozart. No. In questo modo raggiungiamo più gente. Penso mi sia sempre piaciuto cantare ma non lo consideravo una possibile professione. Quando ero piccino ero nel coro a cantare e mi piaceva. Rifacevo le canzoni di Elvis Presley poi mi resi conto di un tratto che in realtà potevo scrivere canzoni e comporre musiche mie. Chiamatelo dono di natura o quel che è. Più avanti andai alla Healing Art School. Ho frequentato la scuola d'arte con l'intenzione di prendere il diploma cosa che ho fatto per poi diventare un illustratore nella speranza di guadagnarmi da vivere lavorando in proprio. La musica è sempre stata un'occupazione poi è cresciuta. Finito il corso per illustratore non ne potevo più. Ero arrivato alla frutta. Pensavo che non avrei potuto fare carriera come illustratore perché non mi interessava. Così pensai che avrei potuto divertirmi a provarci con la musica per un po'. Tutti sognano di diventare delle star e quindi se ce l'avessi fatta perché no? La musica accompagnava qualsiasi cosa facessi e la scuola era un terreno fertile per musicisti. Presi il diploma e poi pensai di provarci come artista freelance. Tentai per un paio di mesi e poi mi dissi mio Dio ne ho abbastanza proprio non mi interessava e la passione per la musica cresceva continuamente. Alla fine mi dissi va bene mi butto farò musica. Sono una di quelle persone che crede si debbano fare le cose a cui si è interessati e la musica cari miei è molto interessante. Se sono vanitoso per certi versi sì ne ho tutte le caratteristiche. mi piace avere sempre un bell'aspetto quando esco penso sia una sorta di felicità interiore non può che venire da lì. Per me la felicità è la cosa più importante e se sono felice si riflette nel mio lavoro. La mia felicità dipende da molte cose anche solo comprare un regalo per qualcuno è bellissimo ma esibirmi davanti a un pubblico mi appaga completamente. Non farei questo mestiere se non mi piacesse. Sono senza dubbio una persona vistosamente esibizionista e mi piace vivere la vita. Sicuramente lavoro duro per farlo e voglio godermela. Potrebbe non capitarmi un'altra volta quindi voglio divertirmi un po'. Adesso non ho paura di fare quello che voglio e non sono preoccupato delle figuracce. se cado in un secchio della spazzatura cosa che mi è capitata diverse volte non me ne preoccupo dal momento che mi sto divertendo. La noia e la monotonia sono le principali malattie del mondo cari miei. Non potreste mai dire che la vita con me è noiosa. L'eccesso fa parte della mia natura e ho proprio bisogno del pericolo e dell'eccitazione. Mi hanno messo spesso in guardia dall'andare in certi locali perché erano troppo pericolosi. Ma per me è una goduria. Non ho mai avuto paura di mettermi in una situazione a rischio. Non sono fatto per starmene seduto a guardare la televisione. Mi piace moltissimo circondarmi di persone strane ed interessanti perché mi fanno sentire più vivo. La gente è troppo normale mi annoia da morire. Mi piacciono moltissimo le persone molto stravaganti. Sono per natura irrequieto e molto irritabile quindi non sarei un buon padre di famiglia. Non faccio mai le cose a metà. Posso passare piuttosto facilmente da un estremo all'altro. Non mi piace niente di quello che sta in mezzo. Il grigio non è mai stato uno dei miei colori preferiti. In un certo senso cambio di giorno in giorno come un camaleonte. Ogni giorno è diverso per me ed è una cosa a cui tengo molto perché non voglio essere sempre la stessa persona. Non mi servono enormi dormite. Tre o quattro ore di sonno per notte mi possono bastare. Per me è sufficiente. Mi ricarico le batterie in quel poco tempo poi solo di nuovo in piedi. Devo fare qualcosa tutti i giorni voglio guadagnarmi da vivere. Non riesco a star seduto per tanto tempo e se sai che hai bisogno di continuo divertimento fai in modo di averlo. Forse non sono altro che un ingordo ma sono una persona di spettacolo ce l'ho nel sangue sono un animale da palcoscenico quindi datemene uno ma in un certo senso ho creato un mostro e sono io quello che ci deve vivere insieme probabilmente nel giro di pochi anni impazzirò diventerò uno di quei musicisti fuori di testa. La gente pensa che io sia un vero inizia con la S ma non lo posso dire e non essere affino è molto difficile avere a che fare con me e per alcune persone sono una zoccola in realtà mi piace essere una zoccola mi piace essere circondato da zoccole di certo non vado alla ricerca delle persone più perfette perché le troverei noiose sono un animale da preda che gira in città e mi piace godermi la vita ma adesso in realtà sto più attento a far sì che la gente si renda conto che sono una persona normale è brutto quando qualcuno pensa oh Freddy Mercury non mi rivolgerà mai la parola ma vedete è una linea di confine sottile perché quando la gente crede che nonostante tutti quei soldi e quel successo tu sia ancora uno come gli altri poi si approfitta di te si ha sempre una certa idea di come si è fatti e penso che il mio personaggio sul palco sia completamente diverso dal mio personaggio giù dal palco dentro di me ci sono diverse sfaccettature generalmente sono alla mano credo ma posso cambiare ed essere lunatico e detestabile credo che qualsiasi personalità sia fatta di un sacco di ingredienti e io non sono diverso non ho mezze misure il che può essere rischioso perché le persone possono approfittare di me cosa che è successa molte volte ma poi in certe situazioni sono un oggetto sessuale grosso e macio e sono molto arrogante e allora nessuno mi può mettere i piedi in testa quando scopro che uno mi ha ingannato cambio facce divento un orco esteriormente sono molto duro ma dentro sono tenerissimo come come un cioccolatino queste immagini che ho rappresentato negli anni sono una sorta di finzione ho indossato costumi di scena e mi sono immedesimato in atmosfere personaggi differenti ma sotto c'è il vero me stesso per tutto questo tempo ho fatto finta mettendomi banane sulla testa indossando abiti sbrilluccicanti e salendo sul palco in spalla qualcuno mi piace rendermi ridicolo e non mi prendo troppo sul serio non indosserei vestiti come quelli se fossi serio la cosa che mi fa andare avanti è che mi piace ridere di me ma è tutta finzione sotto sotto sono sempre un musicista quando ho una relazione non è mai una faccenda tiepida non credo nelle mezze misure o nei compromessi non sopporto dover scendere a compromessi in nessuna situazione do tutto quello che ho perché sono fatto così quando sono attratto da qualcuno cerco di tenermi a freno solo che non riesco a controllarlo l'amore esplode mi innamoro decisamente troppo in fretta e finisco per starci male tutte le volte forse attraggo solo le persone sbagliate ne porto i segni dappertutto in amore non si ama il controllo della situazione e io detesto quella sensazione ho pianto fiumi di lacrime sono un essere umano mi piacerebbe che gli altri riconoscessero a questo fatto sono svantaggiato perché la gente cerca immediatamente me il mio cosiddetto personaggio di scena nessuno ama quello che io sono nella vita reale in fondo sono tutti innamorati della mia fama e della mia celebrità e quindi devo quasi combattere contro quel personaggio è come se avessi creato un mostro devo trovare qualcuno che lo accetti ma è molto difficile cerchi di tenere separati i due freddi ma non è facile sono come le due facce di una stessa moneta nella mia vita ci sono state storie d'amore che sono andate male ed è molto difficile trovare una persona sincera non riesci a capire se vogliono te o Freddie Mercury la pop star e lui è una persona piuttosto diversa provoco molti dissensi quindi non sono una persona più facile con cui avere una relazione sono la persona più carina che possiate incontrare cari miei ma è molto difficile vivere con me non credo che qualcuno potrebbe sopportarmi in un certo senso sono un ingordo voglio tutto e lo voglio a modo mio ma non è così per chiunque mi piacerebbe moltissimo avere una relazione veramente bella con qualcuno un'unione a due a lungo termine ma non credo possa capitare in questo momento della mia esistenza e non credo che ci sia davvero posto nella mia vita per una cosa così non è mai sembrato funzionare penso che è così che sarà la mia vita e devo venirci a patti una volta che te lo sei detto puoi allentare la pressione e dire affanculo non sarà mai come vorresti e quindi non tormentarti prego di non prendermi mai l'AIDS ce l'hanno tanti miei amici alcuni sono morti altri non camperanno tanto a lungo sono terrorizzato all'idea di poter essere il prossimo subito dopo aver fatto sesso penso e se fosse questa la volta e se adesso il virus è nel mio corpo salto nella doccia e cerco di sfregarmi per pulirmi anche se so che non serve quando ho saputo di alcuni amici che sono morti di AIDS e mi sono sentito totalmente sconvolto mi ha fatto capire la gravità del virus l'ho imparato nel modo più doloroso e per i giovani è molto più dura giorni fa pensavo che noi siamo stati fortunati quando l'abbiamo fatto ma loro stanno appena cominciando è un problema che i giovani devono affrontare seriamente ho paranoia di tutti i generi una è quella di restare da solo da solo non posso andare da nessuna parte ho sempre bisogno di avere qualcuno con me ogni volta che vado a fare delle spese probabilmente perché non mi piace che la gente mi fissi non mi importa che mi stia fissando ma non mi piacciono le persone che sono un po' maleducate che mi si avvicinano perché è una cosa che non piace a nessuno ognuno ha dei momenti in cui si dà delle arie e si dà importanza per esempio non mi allaccio mai le scarpe da solo mai non è una cosa che si fa nel rock and roll cari miei sono la creatura più vanitosa che ci sia ogni tanto faccio ginnastica anche se non mi piace andare in palestra è un po' imbarazzante specialmente quando ci sono tutti quei tipi muscolosi che guardano uno deboluccio che cerca di tirar su un manubrio e poi e poi non mi piacciono i miei denti sporgenti prima o poi li farò mettere a posto ma proprio non ne ho avuto il tempo finora a parte ciò sono perfetto seriamente sono una persona molto sincera nell'intimo ho sempre voluto rendere conto solo a me stesso e ho sempre pensato di capire le cose meglio degli altri sembra un atteggiamento troppo maturo per un ragazzo ma già sapevo cosa volevo e se dovesse finire tutto domani rifarei ogni cosa a modo mio so che un giorno finirà ma non starò sveglio la notte a pensarci non è per questo che sono qui sono qui per la sfida sono una di quelle persone che non si guarda indietro e che non piange sul latte versato se faccio un errore mi dico è passato è finito e allo stesso modo non puoi crogiolarti nel successo perché nel mondo della musica vali quanto vale il tuo ultimo disco funziona in entrambi i sensi e quindi se me ne uscissi con un discaccio non me ne importerebbe un fico secco chiunque desidera una sorta di riconoscimento nel campo della musica o in un altro qualsiasi e anch'io sono così ma sarei felice di essere famoso in un modo completamente diverso è il successo che conta e sentire il peso del successo sulle spalle in qualsiasi forma che sia come magnate del petroglio o come dirigente di un qualsiasi settore mi batterò sempre per avere successo e quindi non considero obbligatorio che sia per forza come musicista è un bellissimo dono da avere anche se non credo che farai il meccanico e sono incapace a fare conti o cose del genere quando si parla di scienza non valgo niente e non sono un tutto fare oh no sono un inutile cazzone so come ottenere il meglio da me stesso ho sempre intuito qual era il mio talento e l'ho messo in mostra per cercare di ottenere qualche tipo di riconoscimento e di successo ho molto più controllo su di me adesso perché so quello che voglio e quello che non voglio vivo per il domani fanculo oggi è il domani che conta non ho intenzione di stare a sentire la gente che mi dice come dovrei reagire nessuno mi dice quello che devo fare sono un tipo molto frivolo e amo divertirmi e quale modo migliore di farlo se non in scena davanti a 300.000 persone sul palco vado in ebollizione suonare davanti a una grande folla quella sensazione di un'onda che monta per me non ha uguali l'emozione che mi dà il pubblico è più forte di quella che provo con il sesso mi piace l'eccitazione di quei momenti e sento di volerne sempre di più ancora ancora di più sono una puttana della musica è la mia natura ma nella vita reale non sono così quando scendo dal palco ci vogliono ore perché mi rilassi e torni ad essere me stesso la mia personalità è fatta di tanti diversi elementi e il freddi sulla scena è solo uno di questi qualche volta quando salgo sul palco mi sento davvero cattivo quando sono là sono in un mondo tutto mio salgo in scena e me la godo è la partecipazione degli spettatori quello che conta e qualche volta ho la tentazione di andare tra di loro e darmi alla pazza gioia freddi mercuri che sculetta e se la spassa qualcuno si accontenta di arrivare secondo io non posso la vedo come una sconfitta se hai assaggiato il gusto di essere il numero uno allora il numero due non ha abbastanza sapore ora come ora faccio quello che più mi interessa e sono molto felice che la gente compri i miei dischi e che mi ami non voglio ritirarmi quando le gambe non mi reggeranno più allora me ne starò seduto con le fasce elastiche sferruzzando calze per i marinai c'è una sola ragione che potrebbe convincermi a smettere se la gente non comprasse più i miei dischi finché la gente compra la musica va tutto bene quando smetterà di comprare i nostri dischi dirò addio e mi occuperò di qualcos'altro farò lo spogliarellista o mi dedicherò alla pittura o chissà che non penso a me stesso come a una leggenda io con le leggende non ho molto a che fare sono solo un piccolo tenerone sono un tesoro per me una leggenda è qualcuno come Montserrat Caballet lei è la leggenda e io sono solo una vecchia sgualdarina non voglio fare paragoni con nessuno perché non credo di avere paragoni un sacco di gente si è innamorata e un sacco di gente disamorata e in tanti continuano a farlo io scrivo canzoni su quello creando atmosfere diverse sono convinto che la gente non smetterà mai di amare e di soffrire per mancanza d'amore e sono così tanti e diversi i modi in cui la gente trova l'amore e lo perde penso che la gran parte del mio repertorio segua quel percorso e penso che scrivere e cantare dell'amore sia in effetti senza limiti credo di scrivere di cose che la gente normale vive sulla sua pelle anch'io sono passato attraverso tutte queste cose così le affronto da un punto di vista generale raccolgo diverse esperienze e poi le metto in forma di canzone sono un vero romantico proprio come Rodolfo Valentino mi piace scrivere canzoni diverse di tutti i tipi ma quelle romantiche non mancheranno mai non posso farci niente è una cosa automatica mi piacerebbe scrivere canzoni su qualcosa di completamente diverso ma poi pare che finiscano sempre in maniera tragica o intensamente emotiva non so perché anche se alla fine non manca mai un pizzico di humor le mie canzoni in fondo sono fatte così c'è ancora chi mi chiede il vero significato di Bohemian Rhapsody e io rispondo che non lo so penso che rovinerebbe il mito e quella specie di mistica che i fan hanno creato Rhapsody è una canzone con una certa aura fantastica in sé ognuno dovrebbe ascoltarla rifletterci su e poi decidere da solo cosa significa in effetti odio cercare di analizzare le mie canzoni sino in fondo la gente mi domanda perché hai scritto quel verso o quell'altro che significato ha non amo spiegare quello che avevo in mente quando ho scritto una canzone non mi piacciono le analisi preferisco che ognuno elabori una propria interpretazione maschile o femminile non sta a noi mettere un'etichetta alla musica che produciamo sarebbe una gran noia se tutto fosse stabilito chiaramente e tutti sapessero sempre il significato preciso mi piace che la gente ci metta del suo penso sempre a scrivere nuove canzoni non riesco a fermarmi ho un sacco di idee che premono per uscire mi viene distinto mi piace scrivere bei motivetti orecchiabili è qualcosa che devo continuare a fare ma che mi dà anche piacere è una specie di hobby che mi diverte è una cosa molto gratificante in fondo avere voglia di continuare a farlo ed esplorarne diversi aspetti per vedere come si sviluppano è come dipingere un quadro devi distaccartene per vedere come è venuto la mia musica supererà la prova del tempo non me ne frega un cazzo io non ci sarò più per preoccuparmene fra vent'anni sarò morto cari miei ma scherzate non mi aspetto di vivere fino a tarda età e oltretutto non me ne importa niente sicuramente non aspiro a vivere fino a 70 anni sarebbe così noioso sarò morto e sepolto ben prima di quell'età non ci sarò più starò cominciando a vivere la mia vita da qualche altra parte coltiverò i miei melograni non voglio essere un peso per gli altri mi piacerebbe sapere di essermene andato senza essere stato di peso a qualcuno proprio non voglio sono sincero mi piacerebbe morire quando sarò ancora al massimo non diventerò come Eva Peron non voglio passare alla storia come una di quelle persone che si sono preoccupate di ciò che si penserà di loro la vita serve per essere vissuta non me ne frega niente del dopo intanto mi sono divertito e voglio continuare a divertirmi non vorrei suonare macabro ma i 70 anni sono molto lontani per quel che mi riguarda ho vissuto alla grande andrò in paradiso? no e nemmeno voglio andarci l'inferno è molto meglio ma sai tutta la gente interessante che si può incontrare laggiù se la vi che si può